Perchè fa molto Già Eh l'ho messo per arampicamuri ma infatti ho fatto male Eh ma ho messo arampicamuri ma se per caso vado a terra e non c'ho niente Ma dio o dio Comunque si avere la M16 con alto forno è comodo Chia tutti i tre in fila erano Non li ho neanche visti La K74U Vorrei prenderla però c'ho già paca panciate queste no Mi spiace ma Sarò griccio L'anilator Utile al round 26 non shot Vabbè Shot fino al 19-20 più o meno No Il bello di avere alto forno è che quando uccide i goblin non esplodono Ah beh anche con trasformato Anzi con nessuna specialità penso Fuochi d'artificio non so se li uccide però Fuochi d'artificio Fuochi d'artificio Fuochi d'artificio Fii Qui Sì, 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 sì. Ok, ok, ok. Beh, se avanziamo così non mi dà neanche fastidio. Però inizio a scarseggiare di munizioni. E io mi voglio prendere il Bowie. Quella che vuoi. Guarda te. Parte senza di me. Vabbè che lo so che c'è via. Sembra di fare la fila in drogheria. Guarda l'unico zombie là da solo. Vediamo se la zoppo. No. Cioè non gli ho fatto niente. Gli esplosa la granata di fianco non gli ho fatto niente. No mate, muore. Lascialo così che così quando sponiamo c'è solo lui. Non muore. Perché? Perché vuoi complicarci la vita? Tu si entra qua. Ma vabbè. Andiamo già qua. Parla a quello che ci dà sempre l'ultimo e non si scusa mai. Io scorreggio e non mi scuso. Guarda te che non riuscivo a comprare le mine. Sì. Mi ha dato anche un liquid divinio. Ho già fatto tre liquid divinio. Buono buono. Così semplici semplici. Fa troppo cagare muro di tuono. Merda. Io l'ho cambiato però giocavo in earth. Ci ha messo. Eh. A direcelo. Sono rosso. Sono rosso. Sono rosso. Se eviti di morire mi fai un favore. Vabbè Tano c'è un retro gusto. Tu hai anche le scimmie forse. Vabbè Tano ce la facevi. Non hai in bella vista? Sì. Sì c'è in bella vista. Vabbè allora. Posso anche suicidarla. Ma anche no guarda. Morda. Ma quanto cazzo lagga l'audio? Ma a me neanche tanto. Anzi no. Proprio niente. No ma non tu. Tu hai di gioco proprio due volte. Tira delle laggate. Ma a me mai. E' proprio difficile che mi capiti che. Ma crashi sempre tanto. E vabbè crashi dai parti. Non dalle partite ma dai parti. No anche dalle partite. Sì vabbè. Quando abbiamo fatto Revelation. Solo crashavo anche dalle partite. Ma questo non me lo so ancora spiegare. Anche da air delle volte. Si darò e due volte. Allora la terza ci siamo riusciti quindi. Poi abbiamo smesso di giocarci. Avete detto di non fiderli. Tu non hai un pieno carico vero? No. Potrei trovarmi in difficoltà allora. Aspetta. Cioè nelle gavelgum? Sì nel pacchetto sì. Eh allora prendilo. Se lo trovi. C'è l'altro gusto adesso. Sono a metà. Aspetto. Magari c'è. Ecco. Va. No 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 no. Rosso 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 rosso. Brutta cosa. Mamma mia. Oh. Me la son vista brutta. Veramente. Tanto anche. No. Che sono andato a terra 10 volte, no. Sono io che sono andato a terra 10 volte. Tu una. Sì. Dai, io una. E sono morto anche, dai. Mi faccio anche morire. Non ho la Thunder Gun io. No, è colpa che non sai giocare. Aspetta, non ucciderlo. Non ucciderlo l'ultimo. Aha. Si, si. Tanto non ce l'ho neanche la Widows. Vieni qua, vieni qua. Bravo. Wider, andiamo. Qui sarebbe comodo il glitch che avevo su Gold. Eh, già. Tra l'altro, vediamo. La live è durata 31 minuti. Beh. E girati. Perché? Perché? Perché stai guardando? No, un attimo. Vuoi stare a vedere come si vedeva tutto qui? Eh. Si sente bene il tuo audio? Si sente bene? Si, si. Si sente tutto bene. Eh. No. Nelle video che si faccia non si sente. Boh, è strano. Cioè, però non l'ho mai provato a metterle su YouTube. Oh, sta venendo a te, sta venendo a te. Mate, sta venendo a te. Eh, vabbè. Ok, un po' di punti. Dov'è? Cassa? No, l'ho partato l'altro giro. Quello lungo. È morto. Si, hai visto. Andiamo. Doverò toglierla. Vabbè. Però si vede bene. Tutto bene, eh. Eh, vabbè. Chissà se le fanno esplodere. Oh, le fanno esplodere. Sto più con la Thunder Gun. Eh. Ah, mi finisce anche il retrobutto. Sono fatte troppo bene. Sono fatte troppo bene le Gable Gun qua. Cioè, le esplosioni. Eh, vabbè. No, certo. Eh, non l'ho fatta apposta. Pensavo ce ne fossero di più. Insaziabile. Che culo. La mia bellissima. No. Oh, c'è un caduto. Se vuoi, Simo, quando arrivi a uno... Ho preparato un'ora. Ah, vabbè. No, perché fossero a metà io, metà te, semmai? Eh, sto già registrando anche la seconda parte, quindi... Se dura più di un'altra ora, dimmi. Sì, sì. Dimmi che così almeno la distruisco io. Giusto per cambiare un po' la visuale. E poi, c'è, perché a fare round, c'è, dopo un po' io, c'è, bisogna tagliare un bel... Cioè, da tipo round 25 che stiamo un po' sempre girando così. Beh, però non sarebbe una brutta idea, eh. Cioè, sai, tipo... Non penso ci siano molti che hanno fatto, tipo, la stessa partita... Con due... Tipo, divise in parti, con due visuali diverse. Eh, stesso... Eh, poi... Non lo so, infatti, boh... Eh, infatti pochi lo hanno fatto. Che poi... Dello stesso canale. Sì, dello stesso canale poi, anche. Quindi... Porco due. Magari mi lanciamo una nuova moda. Mmm... Sì, perché poi guagna... Guagna sono in tanti, ma non l'hanno mai fatto.